Ecco qui, deve essere una comune cittadina che fa portare via la roba. Non t'ha zardato a dirmi niente perché sto a fare la diretta, non mi dì niente. Non mi dì assolutamente niente, ricarica tutto quello che hai scaricato nel prato. Ricaricate tutto quello che avete buttato. Avanti! Non levo niente, ricarichi tutto. Forza! Ricarica tutto in macchina e porta tutto via. E tu ricarica tutto. Ricarica tutto in macchina. Li metti in macchina. Guarda che sono in diretta, lo stanno vedendo tutti, quindi occhio a quello che fai. Ricarica tutto. Hanno visto pure la targa della macchina, quindi cerca di ricaricar tutto. Questo è quello che portano all'interno dei prati di Via Laerte, che poi noi comuni cittadini non ci dobbiamo incazzare perché lasciano tutto qua. Ecco qui le risorse, quello che fanno. Eccoli qua. Guarda che sto in diretta, non t'ha zardato a fare niente perché sono cavoli tuoi. Forza, ricarica tutto. Ricarica tutto. Perché? Perché devi rimettere tutto in macchina, questo non è la discarica comunale. Forza, ricarica tutto. Metti tutto sulla macchina. Metti sulla macchina! Forza! Forza! Cazzo voglio! Voglio che rispetti la mia città! Forza! Quello voglio, che rispetti la città dove stai ostide! Forza! Vattene. Vattene te, vattene! Vattene. Vattene te! E vi ringrazio a Dio che te è nata pure bene! Forza! Forza! Non ritornare perché c'è la targa tua filmata e l'hanno vista tutti! Non ritornare! Non si tratta di avere le palle ragazzi! Sto a trenare perché comunque sto da sola! Ma se facciamo sempre tutti finta di non vedere e ce ne andiamo, sta città diventa sempre più merda! Almeno se ne sono dati! Non lo so se la scaricheranno un'altra volta, ma la targa c'è sta! E chi se qualcuno volesse può pure fare i controlli di questa gente perché tanto stanno a venire a scaricare quella roba perché tanto poi qui dentro ce l'hanno a dormire, ecco quello che fanno! dentro queste canne dove la gente comune poi ci viene a passeggiare rischia tutti i giorni la vita!